Ciao, sono Monica di Impara, l'inglese con monica.com e nella lezione di oggi voglio rivelarti il significato dell'Idiom of the Week che ho selezionato per te questa settimana. The idiom of the week of today is off the record. Off the record means informally, in confidence. L'espressione idiomatica off the record significa quindi per vi ufficiose, detto in confidenza. Vediamo una frase di esempio. I'm going to tell you something off the record. Ho intenzione di dirti qualcosa o sto per dirti qualcosa in totale confidenza. Bene, per oggi è tutto e ti aspetto la prossima settimana con un nuovo Idiom of the Week e nel mentre ti invito a condividere questo video e a taggare una persona alla quale credi questa espressione idiomatica possa essere utile. A presto! A presto! A presto!